E' cominciata questa mattina al Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio, accolto dal Rettore della Federico II Gaetano Manfredi, la giornata napoletana del Premier Giuseppe Conte in città. Il programma di appuntamenti parte dalla visita alle Accademi Eppol e Sisco, poi la partecipazione nell'Aula Magna dell'Università alla cerimonia conclusiva con gli studenti del corso Eppol, cui ha preso parte anche il sindaco Luigi De Magistris. Centrale tra le tematiche affrontate, l'avvertenza della Whirlpool di Napoli rispetto alla quale il presidente Conte ha ribadito il suo impegno affinché la multinazionale tenga aperta la sede di Ponticelli. Io ho parlato con il presidente del Consiglio anche a quattro occhi a San Giovanni a Teduccio, lui mi ha assicurato l'impegno, poi anche pubblicamente l'ho esortato a seguire su questa vicenda il principio che è inaccettabile, che è un'azienda, una multinazionale con un tratto di penna dall'oggi al domani cancelli un'azienda e lui ha lanciato questa suggestione anche di sottolineare, così come avevamo sottolineato prima, che Napoli è una città che è in grado di accettare la sfida anche della tecnologia più avanzata. Quindi non si comprende perché un'azienda, una multinazionale che fa un piano industriale, chiuda proprio Napoli, dove c'è il massimo dell'eccellenza in termini di creatività, di competenze e di giovani. Il fatto che si sia esposto pubblicamente di fronte a una sollecitazione pubblica del sindaco di Napoli è un passaggio importante, così come l'ho esortato pubblicamente affinché il governo sia più vicino alle universiadi che sono in evento nazionale, lui pubblicamente ha detto che verrà personalmente insieme ad altri ministri anche alla giornata di inaugurazione e più tanti altri segnali che ha dato. Io ho apprezzato alcuni passaggi del Presidente del Consiglio, evidentemente ha ben compreso di quello che sta accadendo a Napoli e l'ha più volte sottolineato. Il tour del Premier in città è proseguito presso la Fondazione Salvatore in Viale Gramsci, con la partecipazione ad un convegno sul mezzogiorno organizzato con le facoltà Federico II e suo Rorsola Benincasa, presenti rappresentanti istituzionali del mondo dell'università, della ricerca e delle imprese.